Hai incontrato il sindaco Virgilio sulle linee programmatiche? Come è andato l'incontro e cosa avete chiesto? Allora in realtà con il sindaco Virgilio c'eravamo espressi nella volontà di incontrarci come coalizione proprio perché vedesse che pur essendo sola di fatto come consigliera comunale non sono sola perché ho persone dietro che mi supportano e mi danno una mano ed è stato un incontro veramente gradevole con toni pacati anche perché alcuni punti in realtà già sono abbastanza simili altri meno quindi lui ci ha parlato dell'unica vera modifica che fa rispetto al programma iniziale della campagna elettorale che è quella del biometano e quindi su questo non possiamo che essere contenti e niente lui chiede di poter continuare a dialogare, di poter collaborare dove ci sono punti di contatto quindi questo noi lo possiamo fare naturalmente sui punti dove non siamo sulla stessa lunghezza d'onda continueremo a essere opposizione. Quali sono i punti che avete richiesto? L'impegno del salario minimo, l'impegno non c'è di identificare ulteriormente una mobilità sostenibile che vuol dire più città 30 che non bici elettriche o monopattini la gestione di una sanità pubblica anche a livello territoriale ci siamo preoccupati di sapere se c'è un piano d'allerta visto tutte le situazioni anche di bombe d'acqua e questo pare che ci sia noi siamo autonomi anche perché abbiamo fatto una grande fatica a presentarci in una città come Cremona e l'abbiamo fatto perché abbiamo degli comitati, associazioni, movimenti di cittadini che non hanno apprezzato la giunta precedente quindi con questa c'è la possibilità di un dialogo maggiore ce ne siamo accorti però rimaniamo comunque una forma di opposizione Sul campo largo lei cosa pensa? Allora, su questo territorio per me il campo largo non esiste nel senso che dobbiamo ancora trovare dei punti di intento per fare un campo largo